vediamo l'altro dispositivo effetto di campo che si chiama MOSFET poi c'è in realtà il tipo di transistor in assoluto più utilizzato lo vediamo un po' per ultimo perché la cosa che abbiamo visto sul JFET in particolare aiuta a capire il funzionamento di questo dispositivo allora la parte iniziale MOSFET sta per Metal Oxide Semiconductor quindi MOSFET è un FET con metalloossido semiconduttore col sistema metalloossido semiconduttore che cosa vuol dire questo? in pratica la struttura del dispositivo è fatta in questo modo vediamo un MOSFET a canale N come si dice N MOSFET MOSFET a canale N MOSFET può essere anche a canale P anche il JFET può essere a canale P ma è praticamente inutilizzato il MOSFET a canale P invece è utilizzato altrettanto che il MOSFET a canale N quindi dobbiamo vederlo in maggiore dettaglio allora vedendo la cosa in sezione sulla feta di silicio noi abbiamo questa situazione c'è una regione drogate tipo P due regioni drogate tipo N+, dove realizziamo il contatto di source e il contatto di drain e tra le due regioni c'è il sistema MOSFET cioè una zona in cui abbiamo uno strato di ossido tipicamente questo è un ossido beh tradizionalmente era un ossido di silicio ed è in realtà il motivo per cui il silicio ha avuto tanta fortuna come materiale per l'elettronica era che almeno inizialmente era relativamente facile realizzare un buon ossido sopra il silicio l'ossido di silicio è particolarmente buono come isolante qui serve un materiale che sia un isolante praticamente perfetto con pochissimi difetti cosa come dire interessante da notare che almeno da 10 anni non si usa più l'ossido di silicio per fare l'ossido nei processi molto scalati aggressivi specialmente quelli adoperati nei microprocessori più recenti per calcolatori, telefoni eccetera l'ossido non è più di silicio è essenzialmente un ossido di una terra rara che si chiama afnio adesso si chiama ossido di afnio perché ha delle caratteristiche isolanti migliori dell'ossido di silicio questo aspetto diciamo ci interessa poco afnio si scrive così in italiano afnio è HF il simbolo in inglese si chiama afnium con l'H iniziale poi è rimasto il silicio perché ha tante altre buone caratteristiche ma soprattutto perché ormai la tecnologia per processare e fabbricare il silicio è arrivata a un livello di avanzamento tale per cui non conviene passare ad un altro materiale ormai si sa tutto del silicio sono stati centinaia di migliaia di miliardi di dollari investiti in ultimi vent'anni nella tecnologia del silicio per cui si continua a usare quello però all'inizio ho raccontato che all'inizio i primi transistori si facevano in Germania e il motivo per cui si passò a un certo punto dal Germania al silicio è che sul Germania l'ossido non si cresceva recentemente sul silicio si passò al silicio per quello insomma un po' la cosa attecchita adesso il motivo principale è sparito però poi la tecnologia è talmente matura che rifare la tecnologia per un altro materiale è una cosa che non ha voglia di fare nessuno è un investimento che non ritorna e poi sopra c'è uno strato metallico che è il contatto di gate questa è la struttura MOS vedete metallo, ossido, semiconduttore c'è un sandwich di tre strati differenti i tre elettrodi sono gli stessi di prima vediamo come funziona ok allora anche in questo caso drain e source sono completamente indipendenti sono completamente equivalenti quindi per convenzione si chiama drain l'elettrodo a tensione positiva tensione più alta rispetto al source nel gate non passa corrente perché c'è questo strato di ossido esonante allora com'è che funziona per capire com'è che funziona bisogna notare come è fatta la questo sandwich vedete in pratica questo panino metallo ossido semiconduttore si comporta come un condensatore a faccia piana e parallele il semiconduttore sotto conduce il metallo sopra è un metallo perfetto quindi conduce e c'è dentro uno strato intermedio di ossido che separa i due di fatto abbiamo un condensatore a faccia piana e parallele in condizioni di riposo questa zona qua è piena di lacune però dal drain al source la corrente non può passare perché non può passare? perché vedete dal drain al source a seconda della tensione che inserite comunque trovate un'aggiunzione pn polarizzata in diretta e un'aggiunzione pn messa al contrario che quindi sarà polarizzata in inversa qualunque sia la tensione che applicate per una tensione polarizzata in diretta in serie ce n'è una polarizzata in inversa quindi la corrente non passa perché quella polarizzata in inversa impedisce il passaggio di corrente quindi condizioni normali quasi se lasciate il gate a tensione nulla e applicate una tensione tra drain e source la corrente non passa come si fa a far passare la corrente vediamo prendiamo un altro un altro lucido disegniamo di nuovo disegniamo di nuovo dispositivo ed evidenziamo le tensioni che applichiamo allora questa è n più questa è p questa è n allora noi applichiamo una mettiamo a massa il source applichiamo una vds positiva sul drain ma piccola per il momento la mettiamo piccola faccio lo stesso ragionamento che abbiamo fatto prima vedrete che tante cose si ripetono e poi applichiamo una tensione invece sul gate e la tensione la applichiamo positiva perché vedrete che cosa succede dunque caso facciamo un racconto semplice se applico una tensione positiva sul gate prima cosa che posso vedere è che il gate attira cariche negative queste cariche negative poche che sono contenute qua nella regione tipo P vengono attirate verso il gate e rimangono come dire bloccate alla interfaccia con l'isolante con l'ossido perché non possono attraversare l'ossido e rimangono bloccate là e quindi si forma un un una regione con carica costituita da elettroni mobili in questo caso si dice si forma un canale d'accordo quindi con vgs maggiore di zero pian piano si forma il canale si forma un canale di elettroni tra parentesi liberi ovviamente come ho detto spesso non lo non lo dico più perché è utile questo canale di elettroni che si forma perché vedete adesso abbiamo una continuità di elettroni tra il drain e il source e a questo punto la corrente può passare va bene più grande è la vgs più grande è la carica che si accumula lì all'interfaccia quindi più popolato è il canale più bassa è la resistenza di quella regione e quindi a parità di vgs più corrente passa va bene questo si chiama MOSFET a canale n perché il canale che si forma è un canale di elettroni ok allora nella nella realtà il processo è un processo molto graduale man mano che aumento vg aumento la concentrazione di elettroni nel canale per semplificare un po' le cose e anche per tenere conto di quello che praticamente si osserva si fa questa approssimazione si dice che fino a un certo valore di tensione praticamente il canale si può trascurare cioè si può considerare che il canale non si sia ancora formato troppo poco popolato di elettroni per considerarlo formato sopra quel sopra questo valore sopra un certo valore di tensione invece il canale si è completamente formato e quindi abbiamo che la carica sotto il canale dipende dalla capacità e dalla tensione applicata alla capacità in pratica quindi introduciamo questa tensione di soglia e si dice che se VGS è minore di VT il canale non si è ancora formato non si è formato ancora dipende da che direzione stiamo facendo non si è formato e per VGS maggiore di VT il canale è presente va bene tenete presente questa è un'approssimazione in realtà è molto graduale la formazione del canale è perché come al solito poi abbiamo bisogno di fare delle approssimazioni noi diciamo che per VGS i minore di VT il canale non si è formato e quindi non passa corrente va bene quindi anzi diremo che il transistore è in interdizione quindi non corrente uguale a 0 interdizione la regione funzionalmente è quella di interdizione la ID è questa qui per VGS maggiore di VT il canale è presente quindi il transistore è acceso perché può passare a corrente tenete presente specialmente nei dispositivi a basso consumo spesso si lavora in condizioni di VGS e di VT tutto il funzionamento del circuito elettronico un processore un trasmettitore eccetera avviene tutto per VGS e di VT come si dice sotto soglia questo perché non è vero che non passa corrente è che in realtà è molto piccola però se voglio fare un circuito che consumi molto poco mi conviene lavorare in quella situazione intanto per curiosità praticamente da fine anni 80 tutti gli orologi a quarzo funzionano in regime sotto soglia perché lì l'interesse principale a cercare di far durare le batterie più possibile è un modo che si trova è quello di andare sotto soglia quindi sono distinzioni molto grossolane che sono comode per capire che cosa succede però poi uno deve sempre come al solito tenere presente che se io faccio un'approssimazione riesco a come dire semplificare il tutto e spiegarlo meglio magari anche capirlo meglio però devo sempre ricordarmi che sto facendo un'approssimazione per cui poi è importante in aspetti tecnici e scientifici ricordarsi sempre l'assunzione che si è fatto è che le conseguenze derivano molto dall'assunzione che si è fatto ma l'assunzione non è una verità universale spesso è o un'assunzione semplificativa o una cosa che è vera soltanto in certe condizioni è bene ricordarsi in quali condizioni è vera perché altrimenti poi se si estende il modello troppo oltre il regime di validità poi si dicono cose che non sono più vere allora e va bene se vado a disegnare la caratteristica di uscita come ho fatto per i jfet che cosa ottengo ottengo la stessa cosa che ottengo per i jfet vediamo caratteristiche di uscita allora io disegno id il grafico in funzione di vds usando vgs come parametro va bene quindi io mi metto qua o id in funzione di vds per piccole vds quindi sto qui usando vgs come parametro che cosa succede beh praticamente per quello che ho detto finché facciamolo al rosso si capisce meglio forse finché vgs è più piccola di vt della tensione di soglia e la corrente è praticamente nulla e è praticamente nulla e quindi sono qua quindi questa è la regione diciamo vgs minore di vt su questo grafico io non vedo niente quando vgs aumenta sopra la tensione soglia si forma il canale e più è grande vgs più è ricca la carica che è presente nel canale quindi più è bassa la resistenza del canale quindi io all'aumentare di vgs ottengo qua delle curve che sono delle rette in questa zona a pendenza sempre più grande quindi all'aumentare di vgs la pendenza aumenta perché il canale è più ricco di carica e quindi ha una resistenza più bassa vedete questa cosa qui succedeva anche per il per il Jfet ora devo vedere che succede quando aumento la tensione sul drain riprendo il disegno del mosfet è Grazie a tutti. Grazie a tutti. VGD è uguale a VGS meno VDS. Quindi siccome VDS è positiva avrò che VGD sarà più piccolo di VGS. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nella pratica avrò più carica, perché la tensione è maggiore tra gate e source, quindi avrò più carica accumulata sotto il source di quella che ho accumulata sotto il drain. Il canale è più popolato sotto il source perché la VGS è più grande e è meno popolato sotto il drain. Quindi il canale diventa rastremato in questo modo. Questi sono elettroni. Quindi avviene un po' quello che avveniva nel caso dei JFET. Immaginate di fare la cosa a VGS costante. Se aumento VDS, prima un canale che è uniforme, come popolazione di elettroni, poi all'aumentare VDS si stringe verso il drain. Che cosa succederà? Succederà ovviamente che all'aumentare VDS la resistenza del canale aumenta perché si sta stringendo da una parte. Questo vorrà dire che le caratteristiche di uscita, come abbiamo detto prima, non saranno più lineari, ma di nuovo cominceranno qui a curvarsi perché contemporaneamente si sta stringendo il canale vicino al drain, cioè sta aumentando la resistenza. Fino a che punto? Fino al punto in cui, quando VGD diventa uguale a VT, abbiamo la soglia vicino al canale. Se appena VGD diventa più piccolo di VT, per l'approssimazione di soglia che abbiamo fatto prima, dobbiamo dire che è sparito il canale vicino al drain. Abbiamo avuto di nuovo uno strozzamento del canale. Vedete, è esattamente lo stesso meccanismo che abbiamo visto su JFET. È chiaro che se noi diciamo che il canale c'è soltanto quando la tensione tra il gate e il canale raggiunge VT, quando VGD diventa uguale a VT, quello è il limite sotto il quale il canale è completamente sparito. Va bene? Quindi questa è una condizione analoga al pinch off che abbiamo visto nei JFET un attimo fa. e succede una cosa simile a quella che succede con i JFET, cioè all'aumentare della tensione sul drain, a questo punto la corrente non aumenta più. Perché? Vi faccio lo stesso disegno che abbiamo fatto per i JFET di fatto. Se io vi presento il pozzetto di qua e di là. Non faccio più tutto il resto, faccio soltanto esagero un pochino il canale per farvelo vedere meglio. Io ho questa situazione. Anzi, aspettate. Facciamo così. Ok. Beh, lei fa ci. Ok. 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 Allora qui immaginiamo che VGD sia uguale a VT VGD uguale a VT vuol dire siccome VGD è uguale a VGS meno VDS uguale a VT vuol dire che VDS è uguale a VGS meno VT ok quindi questa è la situazione il canale ha questa forma qui è molto ricco e qui si è chiuso bene qui c'è il pinch off è sparita la chiaramente VGS maggiore di VT e in questa direzione io aumento VDS quindi questo è il source questo è il drain il punto di pinch off lo chiamiamo X come prima coincide con il drain quando la tensione aumenta dal source verso il drain se VDS l'aumento rispetto a questo valore vuol dire che il punto dove ho pinch off si sposta un po' verso sinistra d'accordo? quindi qui avrò una cosa di questo tipo chiaramente al pinch off se X è il punto di pinch off come abbiamo detto nel caso DJFET vuol dire che VGX è uguale alla tensione di soglia bene e quindi VGS meno VXS è uguale a VT e cioè VXS è uguale a VGS meno VT vedete il punto dove ho il pinch off non dipende la tensione del punto dove ho il pinch off rispetto al source non dipende da VDS è una costante dipende soltanto da VGS quindi qui il punto X si sposta in questa parte e questa qui sarà VXS è costante quando aumenta la VDS aumenta la caduta tra questo punto e questo se aumento ancora VDS X si sposta ancora qua quindi è esattamente lo stesso effetto di prima io ho prima una resistenza formata da un canale che va a rastremarsi fino a chiudersi al punto X e poi ho un tratto da X a D in cui per approssimazione non c'è canale nella pratica un po' di carica mobile c'è sempre e lì passa la differenza di tensione tra il punto D e il punto X è tutta dovuta all'aumento di VDS rispetto al valore VGS meno VT quindi questo spostamento è molto piccolo nella maggior parte dei dispositivi è praticamente impercettibile però ve lo evidenzo giusto per farlo notare allora quello che succede è la stessa cosa che abbiamo visto nei JFET la caduta di tensione sulla zona di canale come dire molto popolato rimane la stessa perché la VXS non dipende da VDS la lunghezza del canale rimane approssimativamente la stessa il livello di popolazione del canale rimane lo stesso perché la VGS non è cambiata quindi si va da un valore uguale a un valore nullo in modo lineare e quindi la resistenza del dispositivo non è cambiata la tensione applicata non è cambiata la corrente rimane costante ok? quindi la stessa cosa che abbiamo visto per il JFET la corrente rimane costante in prima approssimazione quando vado a fare le caratteristiche qua la corrente rimane costante se vado a vedere invece un attimo più in dettaglio siccome il punto X si sposta verso il source il canale diventa più corto e quindi un po' la resistenza diminuisce e quindi la corrente un pochino aumenta stesso meccanismo che abbiamo visto per il JFET sono due dispositivi diversi ma il principio di funzionamento è molto simile infatti appartengono alla stessa famiglia dei transistori a effetto di campo diciamo tutti i transistori a effetto di campo hanno questo meccanismo di strozzamento del canale per cui a un certo punto le caratteristiche di uscita non dipendono più della tensione applicata tra drain e source e questo è proprio l'effetto principale che vogliamo nel freddo perché quello ci dà il comportamento dal generatore di corrente controllato da tensione altrimenti sarebbe un resistore allora qua guardando un pochino più come dire un livello di approssimazione un po' più fine in realtà un pochino aumentano ma molto poco e questo è l'effetto di modulazione della lunghezza di canale si chiama esattamente allo stesso modo perché è lo stesso effetto va bene quindi di nuovo questa si chiama zona di saturazione questa si chiama zona lineare di nuovo anche se non è perfettamente lineare e la separazione tra le due zone si ha quando VGD è uguale a VT che vuol dire VDS uguale a VGS meno VT queste curve sono curve fatte a VGS fissato quindi io posso per ogni curva di queste trovare il valore VDS per cui VDS uguale a VGS meno VT e rappresentarlo questo mi viene una cosa più o meno fatta così che rappresenta la separazione tra la zona lineare e la zona di saturazione quindi vedete analogamente a quello che abbiamo visto per il JFET abbiamo tre regioni di funzionamento una regione di interdizione che è questa qui questo trattino qui visto che ci siamo la disegniamo su questo grafico questa è l'interdizione una regione lineare che poi nella pratica si chiama anche zona triodo questa come nei JFET che nella pratica ha un primo tratto lineare e un secondo tratto che assomiglia un po' di più a una parabola con la concavità verso il basso si chiama di nuovo lineare lo stesso insomma si sa che non è proprio lineare però il nome è quello e poi abbiamo la zona di saturazione anche per il MOSFET si cerca di scrivere un'espressione analitica approssimata di queste regioni di funzionamento in modo che diciamo sia facile da ricordare in zona di saturazione si usa anche molto frequentemente il grafico delle caratteristiche trasferimento ve lo disegno quindi VDS maggiore di VGS meno VT in modo di essere sicuri che siamo in saturazione quindi in saturazione e si rappresenta quindi caratteristiche di trasferimento vuol dire la corrente di uscita in funzione della tensione di ingresso quando si dice di trasferimento si intende sempre che c'è una corrente e una tensione su una porta in funzione della corrente e la tensione su un'altra porta qui c'è VGS quindi ritornando sul grafico delle caratteristiche di uscita mi metto qua a un valore di VDS per il quale so che sono in saturazione e faccio il grafico di D in funzione di VGS e lo faccio perché tanto non è importantissimo il valore di VDS in cui sono perché in realtà la corrente praticamente non dipende da VDS come è fatta la curva è fatta così finché VGS non è uguale alla tensione di soglia la corrente è nulla aspettate prendendo una cosa più spessa ok quando VGS supera la tensione in soglia il D cresce e l'andamento è approssimativamente parabolico quindi questa qui si scrive con approssimazione parabolica poi nella pratica non è esattamente parabolica ma insomma si usa un'approssimazione parabolica perché è abbastanza semplice da trattare e si scrive questa cosa il D uguale a vedete si fa una parabola che abbia il vertice in corrispondenza della tensione di soglia di corrente nulla quindi chiaramente vi è una cosa del genere il D uguale a beta per VGS meno VT al quadrato quella è una parabola che è il vertice quando in VGS è uguale a VT perché come vedete sia la derivata prima sia la derivata seconda sono nulle quando VGS è uguale a VT questa è l'approssimazione parabolica se si vuole tenere conto della modulazione della lunghezza di canale tenere conto della modulazione della lunghezza di canale si scrive ID uguale a beta per VGS meno VT al quadrato di nuovo per 1 più lambda VDS che è l'espressione è quella correzione che tiene conto della modulazione della lunghezza di canale e lambda si chiama di nuovo fattore di modulazione della lunghezza di canale come nei JFET allora quindi questa è la zona di saturazione e questa qui è la zona di interdizione c beta è una costante questa è una costante che dipende da alcuni parametri geometrici del transistore che vediamo tra un attimo per il momento non lo ora per il momento per noi è una costante mi indica questa proporzionalità che c'è tra le grandezze e si chiama beta in generale quando si parla del beta di un MOSFET si indica direttamente quella costante allora quindi per riassumere e vedere anche il modello di grande segnale vediamo le regioni di funzionamento del MOSFET regioni di funzionamento del MOSFET a canale N allora abbiamo l'interdizione che si ha per VGS minore di VT e l'equazione che descrive il funzionamento del MOSFET è di uguale 0 in pratica il MOSFET è un circuito aperto poi abbiamo la condizione di saturazione in cui abbiamo VGS maggiore di VT e poi però deve essere VDS maggiore di VGS meno VT vi ricordate l'abbiamo ricavata dove l'abbiamo ricavata l'abbiamo ricavata quando VGD è uguale a VT forse l'abbiamo scritta esplicitamente qui questo è quando sì VDS uguale a VGS meno VT siamo qua al pinch off e dopo in questa situazione qui siamo quando VDS è maggiore di VGS meno VT quindi questa zona qui si ha quando VDS è maggiore di VGS meno VT questa stessa cosa l'abbiamo detta anche qua quando abbiamo scritto le caratteristiche questa curva corrisponde a VDS uguale a VGS meno VT a destra siamo nella regione maggiore a sinistra e nella regione minore quindi quando vale questa situazione la ID è uguale abbiamo detto un attimo fa a beta per VGS meno VT al quadrato per 1 più lambda VDS se vogliamo tener conto anche della modulazione della lunghezza di canale e poi abbiamo la regione omica zona omica regione lineare regione lineare abbiamo sempre VGS maggiore di VT perché il canale si è formato però non c'è pinch off al drain quindi VGS è minore VDS scusate è minore di VGS meno VT allora in quel caso lì si scrive un'espressione di questo tipo è molto approssimata anche questa però rende abbastanza bene ragione di quello che succede e serve per descrivere quel tratto lineare e come si fa? in pratica si scrive così e si mette un termine è una parabola con la concavità verso il basso perché a quella cosa assomiglia ed è fatta in modo che raccordi i due termini cioè vedete scritto in modo tale che in quando VDS è uguale a 0 la corrente si annulla infatti lo è giusto? quando VDS invece è di 0 dall'altra parte al punto in cui c'è il pinch off quindi al confine tra la regione e saturazione cioè quando VDS è uguale a VGS meno VT le due curve si raccordano in realtà si raccordano bene se trascuro il termine di modulazione della lunghezza di canale si raccordano perfettamente cioè la curva della regione lineare ha lo stesso valore della saturazione e anche la stessa derivata perché c'è il vertice della parabola in quel punto va bene è un modo per raccordare le due curve fare una sorta di spezzata di curve invece che spezzata di rette è abbastanza approssimato però giustifica bene il comportamento infatti vedete per VDS molto piccoli in cui posso considerare soltanto il termine primordine in pratica ho una relazione lineare tra i D e VDS che è il primo tratto poi all'aumentare i VDS la reazione è sublineare perché c'è un termine VDS quadro che si sottrae e quando VDS è uguale a VGS meno VT quindi sono a confine con la saturazione la derivata viene 0 perché poi tanto continua con la zona piatta va bene questo è ripeto è un'espressione approssimata che si usa perché è semplice sapendo che è molto approssimata d'accordo vediamo un pochino anche qualcosa del beta come è fatto questo beta questo per il momento è una costante però voglio dire vale la pena entrarci un po' dentro perché alcune delle dipendenze sono abbastanza facili da vedere e contemporaneamente mi mi aiutano un po' a spiegarvi come avviene in tanti casi la progettazione di circuiti con MOS dunque questo beta è diciamo si può scrivere con un'espressione che dipende da alcuni parametri geometrici e alcuni parametri dei materiali che si adoperano vi dico quali sono e poi ne parliamo insieme quindi questo si può scrivere come un mezzo non vi sto a dimostrare il perché però epsilon dell'ossido per epsilon 0 diviso lo spessore dell'ossido per w su l dove w è la larghezza del mosfet e l è la lunghezza quindi quindi w ed l sono delle caratteristiche geometriche epsilon 0 ed epsilon o e epsilon 0 è una costante universale epsilon ox e t ox sono parametri legati all'ossido al dielettrico è la costante elettrica del dielettrico e lo spessore del dielettrico quindi alcuni parametri sono del materiale altri riprendono dalla geometria planare cosa sono w ed l vi faccio vedere un attimo un disegno un pochino più completo al mosfet visto dall'alto il mosfet è fatto così su una faccia come dire su una faccia su un disco di silicio io realizzo il mosfet visto dall'alto in questo modo faccio una zona di tipo P ci metto l'ossido in questa zona centrale poi il metallo in questa zona centrale e sopra e sotto drogo il tipo N+. quindi visto un po' in assonometria più o meno assonometria con un taglio più o meno una cosa del genere questa è la sezione che vi ho disegnato prima NI più N- e questo è il canale che si forma e poi visto dall'altra parte io ho una cosa del genere ho il ho lo strato di isolante che è fatto così e sopra c'è lo strato metallico che è fatto così questo è il drain per esempio e dietro c'è il source va bene noi abbiamo sempre visto la sezione vista da questo lato no? e però ha una certa profondità il dispositivo dall'alto vedo il rettangolo vedo il canale questo sarebbe per esempio il source questo qui è il drain questo è il gate da sopra e questo qui diciamo sempre colorato di nero il metallo questa è la parte di metallo che coloro di nero va bene si capisce da che forma ha no? il canale è questo qui qui sotto quindi è ops facciamolo rosso il canale è molto popolato verso il source e poi tende a stringersi verso il drain è tutto così va bene allora w ed l sono queste quantità l è questa distanza la lunghezza del canale e w è la larghezza del canale quindi immaginate dal punto di vista della resistenza la resistenza del canale tra drain e source sarà tanto più alta quanto l è alta e tanto più piccola la resistenza sarà direttamente proporzionale a L e inversamente proporzionale a W la conduttanza e quindi la corrente a parità di tensione sarà direttamente proporzionale a W e inversamente proporzionale a L per quello il beta è fatto così lo riscrivo un attimo qua beta è un mezzo epsilon zero per epsilon ox su T ox per W su L quindi questa dipendenza è perché la corrente cioè l'inversa della resistenza è proporzionale alla larghezza e inversamente proporzionale alla lunghezza che questa è semplicemente legge di Ohm questo T ox è questo spessore è lo spessore dell'elettrico lo spessore dell'ossido e lì in generale il motivo è che più è grande lo spessore dell'ossido più è piccola la capacità e quindi a parità di tensione applicata attiro meno carica se la capacità è più piccola attiro meno carica sulla sulla faccia inferiore quindi dove c'è il canale per cui più è grande lo spessore dell'ossido peggiore è il beta perché ho meno carica nel canale quindi meno corrente va bene questo è una cosa effettivamente utile da vedere che se io guardo la cosa come condensatore a facce piana e parallele la capacità di questo condensatore chiamiamo la capacità del condensatore che vedo dal gate quant'è sapete com'è la capacità di un condensatore a facce piana e parallele devo mettere epsilon 0 epsilon del dielettrico per l'area diviso la distanza vedete assomiglia un po' a come è fatto il beta di fatto il beta questo termine qui del beta è ah mi sono dimenticato un pezzo questa qui del beta la chiamo anche a volte c ox perché è la capacità dell'ossido dell'ossido per unità di superficie quando w per l è uguale a 1 quindi anche cg posso scriverla come c ox per w per l sono dimenticato un parametro che aggiungo subito e che in realtà deve esserci perché la corrente che passa tra i treni e le sorse è proporzionale anche alla mobilità degli elettroni nel canale quindi qui mi sono scordato un pezzo qui c'è anche mu n quindi anche sopra devo mettere anche mu n ok questa è una dimenticanza da colmare ok c'è anche mu n la mobilità degli elettroni nel canale chiaramente più alta la mobilità del canale più a parità di tensione applicata è alta la corrente d'accordo perché vi ho voluto raccontare questa cosa vi faccio vedere un video non ora credo ma magari posso farlo vedere anche ora poi se abbiamo giusto il tempo per vederlo perché dal punto di vista della progettazione di un circuito integrato si devono utilizzare tanti transistori vi ho fatto vedere insomma un microprocesso moderno usa MOSFET e ce n'è un miliardo come ordine in grandezza a bordo e dal punto di vista della progettazione che cosa si fa chiaramente tutti i transistori vengono realizzati tutti insieme con un processo che assomiglia a una stampa va bene molto più sofisticato ma insomma per capirsi assomiglia a una stampa quindi hanno alcune caratteristiche che sono tutte uguali e invece alcuni parametri che si possono modificare per differenziarli l'uno dall'altro e in generale i drogaggi sono tutti uguali quindi i transistori hanno tutti i drogaggi P, N+, eccetera uguali i parametri dei materiali sono uguali per tutti i transistori nello stesso circuito in prima approssimazione poi sono cose un po' più sofisticate ma insomma in prima approssimazione va bene così quindi per esempio tutti i transistori hanno lo stesso epsilon dell'ossido lo stesso spessore dell'ossido la stessa mobilità M, N quindi sono tutti uguali l'unica cosa che posso fare come in un procedimento a stampa è che posso cambiare le larghezze e le lunghezze perché quelle le decido io dall'alto quanto lungo e quanto largo lo voglio quindi è importante tenere presente che nei transistori in queste caratteristiche nel modello equivalente dei transistori tutti i parametri sono uguali tranne le W e le L e sono gli unici parametri in cui nella progettazione possa avere un effetto anche nell'espressione che ho scritto prima quindi nel beta questo termine qua è costante W e L sono i temi su cui un progettista può agire e nelle caratteristiche in pratica le W e T sono fissate sono tutte uguali per tutti i transistori e quindi l'unico parametro su cui si può agire è questo beta lambda è piccolino non conta poco così tanto e questo beta e all'interno del beta è solo W e L ok quindi chiaramente diciamo nel momento in cui faccio un circuito integrato ho il vantaggio di aver tutto insieme però ho i gradi di libertà fortemente ridotti va bene ok allora io quasi quasi faccio quello che ho detto e faccio vedere un piccolo video ok Grazie a tutti.